ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerei bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco by press by rspa ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cosa by press confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere by press durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cosa abba e press by press a un farmaco a base del principio attivo nitrendipina appartenente alla categoria degli calcio antagonisti e nello specifico derivati di idropiridinici e commercializzato in italia dall'azienda buyer spa by press può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni by press 20 mg 28 compresse informazioni commerciali sulla prescrizione titolare buyer spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo nitrendipina gruppo terapeutico calcio antagonisti forma farmaceutica compressa indicazioni ipertensione arteriosa posologia salvo diversa prescrizione medica la posologia consigliata negli adulti alla seguente una compressa di nitrendipina una volta al giorno alla mattina o a mezzo compressa di nitrendipina due volte al giorno alla mattina e dalla sera 20 mg di nitrendipina al giorno la terapia deve essere adattata in funzione della gravità della malattia e delle esigenze individuali nel caso fossero necessari dosaggi più a elevati è possibile procedere ad un incremento graduale della dose giornaliera fino ad una compressa di nitrendipina due volte al giorno alla mattina e dalla sera 40 mg di nitrendipina al giorno dove si rendesse opportuna una riduzione posologica verrà somministrata a mezzo compressa di nitrendipina 10 mg alla mattina la nitrendipina viene metabolizzata nel fegato è pertanto raccomandabile che i pazienti con complicazioni epatiche comincino la terapia con il più a basso d'usaggio disponibile 10 mg uguale a mezzo compressa by press 20 mg e vengano attentamente monitorati nella risposta clinica durante la terapia dato che gli effetti del farmaco possono venire prolungati e potenziati vedere paragrafo 4 4 nei casi sopra indicati il trattamento andrà iniziato con un quarto di compressa di nitrendipina 5 mg al mattino vedere paragrafi 4 4 e 5 2 i pazienti con ridotta funzionalità renale non richiedono particolari aggiustamenti della dose vedere paragrafi 4 4 e 2 informazioni supplementari per popolazioni speciali la sicurezza e l'efficacia della nitrendipina nei bambini di età inferiore a 18 anni non è stata stabilita modo di somministrazione di norma la compressa da ingerita al mattino dopo colazione senza masticarla con un poco di liquido non succo di pompelmo vedere paragrafo 4 4 durata del trattamento la durata del trattamento deve essere stabilita dal medico curante la somministrazione contemporanea di inibitori o induttori del chip citocromo 3 a 4 può richiedere l'aggiustamento del dosaggio della nitrendipina o può richiedere di escludere totalmente l'uso della nitredipina vedere paragrafo 4 5 proteggere le compresse dalla luce vedere paragrafo 6 4 controindicazioni le compresse di nitrendipina sono controindicate in pazienti con nota ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti vedere paragrafi 4 4 5 2 e 6 1 in pazienti con angina pectoris instabile e nelle prime quattro settimane dopo infarto miocardico dico acuto gravidanza e allattamento vedere paragrafo 4 6 sulla base dell'esperienza con il calcio antagonista strutturalmente simile nifedipina si ipotizza che la rifampicina attraverso un meccanismo di induzione enzimatica accelera il metabolismo della nitrendipina non consentendo la raggiungimento di adeguati livelli plasmatici di quest'ultima di conseguenza ha controindicato l'uso concomitante con rifampicina vedere paragrafo 4 5 avvertenze speciali e precauzione di impiego insufficienza cardiaca scompensata i pazienti con insufficienza cardiaca scompensata devono essere trattati con cautela patologie epatiche in pazienti con funzionalità epatica gravemente ridotta gli effetti della nitrendipina possono risultare potenziati vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione effetti di altri farmaci sulla nitrendipina la nitrendipina viene metabolizzata tramite il sistema del chip 3 a 4 localizzato sia a livello della mucosa intestinale che del fegato tutti i farmaci vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere by press insieme ad altri farmaci come a euro saptivusa euro a euro sata zanavir accorda euro a euro sata zanavir dottor reddisa euro a euro sata zanavir crca euro a euro sata zanavir milana euro a euro sata zanavir sanduza euro a euro se vota zauro a euro sin virose a euro a euros ria taz capsula euro a euros rifadina euro a euros rifatera euro a euros rifina euro a euros rifocina euro a euro stelzir compressa rivestita euro a euro stelzir sospensione a euro eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute, assumere by press durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere by press durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. Non ci sono o sono limitati i dati sull'utilizzo della nitrendipina in gravidanza. Studi sugli animali hanno dimostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5, 3. Dosi di nitrendipina chiaramente tossiche, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari in funzione della differente reattività individuale, in taluni soggetti può venire influenzata negativamente la capacità di partecipazione attiva alla guida di autoveicoli o all'utilizzo di macchinari. Cià vale in misura maggiore all'inizio del trattamento o in concomitanza di una modificazione della precedente terapia, come pure in caso di assunzione contemporanea di alcolici. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le informazioni ottenute dagli studi clinici, dalla sorveglianza post-marketing o da altre fonti sono state analizzate e riportate nella sezione riguardante le reazioni avverse al, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. In caso di sovradosaggio acuto barra intossicazione, si possono manifestare con maggior frequenza rossore al volto, flusce, cefalea, ipotensione, con collasso circolatorio, e modificazioni della frequenza cardiaca, tachicardia o bradicardia. Trattamento del sovradosaggio nell'uomo. Le misure terapeutiche iniziali da considerare in caso di sovradosaggio sono lavanda gastrica seguita da installazione di carbone attivo. È necessario sorvegliare le funzioni vitali. Nel caso si manifesti severa ipotensione arteriosa, è consigliabile infondere ammine pressorie quali la dopamina e la noradrenalina. Si deve prestare attenzione a possibili effetti collaterali delle catecolamine, in particolare disturbi del ritmo cardiaco. Nel caso si manifesti bradicardia, come avviene nel sovradosaggio o nell'intossicazione da altri calcio antagonisti, si raccomanda la somministrazione di atropina o d'orciprenalina. L'esperienza con altri calcio antagonisti indica che la somministrazione endovenosa ripetuta di 10 ml di calcio gluconato o cloruro di calcio al 10%, seguita da una infusione a goccia, prestando attenzione all'ipercalcemia, induce generalmente un rapido miglioramento della sintomatologia. In qualche caso le catecolamine si sono dimostrate efficaci solo a dosi elevate. Il trattamento successivo deve essere determinato in base ai sintomi prevalenti. La disintossicazione extracorporea non è consigliabile, vedere paragrafo 5, 2, ed, inoltre, non si dispone di sufficiente esperienza su questo tipo di trattamento. Proprietà farmacodinamiche Categorie farmacoterapeutica Calcio antagonista selettivo con prevalente effetto vascolare, derivato di idropiridinico Codice ATC-C08K08 Meccanismo d'azione La nitrendipina ha un calcio antagonista del tipo delle 1,4, di idropiridine che agisce come anti-ipertensivo. In, proprietà farmacocinetiche Assorbimento e biodisponibilità Dopo somministrazione orale, la nitrendipina viene assorbita rapidamente e quasi completamente, 88%, nel tratto gastroenterico dell'uomo. Dopo 1-3 ore si registrano livelli massimi di concentrazione ematica, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici basati su studi convenzionali di sicurezza farmacologia, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno non hanno evidenziato rischi particolari per l'uomo. Negli studi di tossicità sulla riproduzione, elenco degli eccipienti amido di mais, cellulosa microcristallina, povidone, sodio laurilsolfato, magnesio sterato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato. Agenzia Italiana del Farmaco. Agenzia Italiana del Farmaco.